Allora, oggi dedichiamo la prima parte a due argomenti leggermente diversi che ci fanno completare la serie delle lezioni sui dispositivi. Prima guardiamo circuiti integrati per la gestione della potenza, quindi Power Integrated Secrets, e poi vedremo alcuni dispositivi invece basati su materiali alternativi al silicio per applicazioni di potenza. Dunque, nell'ambito di circuiti integrati di potenza noi distinguiamo una varietà di situazioni che si differenziano per densità di integrazione e per livello di potenza che riescono a gestire. Andiamo dal più semplice a più complesso. Cose più semplici sono i moduli discreti. I moduli discreti sono moduli che contengono pochi dispositivi, uno o due dispositivi. Il caso più elementare di modulo discreto è il Darlington, in pratica in cui abbiamo un unico dispositivo integrato che contiene i due transistori del Darlington, o ad esempio un IGBT con un transistore di pilotaggio. Quindi poco più del singolo dispositivo. I moduli discreti sono utilizzati per livelli di corrente e tensione maggiori, rispetto al dispositivo singolo contengono tipicamente un dispositivo in più che facilita il pilotaggio. Non sono dei veri e propri circuiti integrati. Stesso discorso vale per l'evoluzione successiva, quelli che si chiamano smart switch o switch smart power. anche in quel caso si tratta di poco più del singolo dispositivo. Tipicamente il dispositivo è un pochino di logica e un po' di circuito di pilotaggio, ma insomma cose molto semplici, per cui la logica non è per niente ottimizzata rispetto a quello che facciamo al dispositivo. Il processo viene determinato dal dispositivo e la logica viene utilizzata in modo opportunistico, ad hoc sul processo del dispositivo di potenza, per migliorarne un po' le funzioni. Ecco, questo tipo di soluzioni si adoperano per livelli di corrente e di tensioni un po' più bassi che nel caso dei moduli discreti. Quindi, per esempio, tensioni inferiori al kilovolt, correnti fino a un centinaio di ampere al massimo. A che cosa mi riferisco in particolare? Vi faccio vedere un esempio. Mi riferisco per esempio a questa soluzione. Vedete, in pratica abbiamo qua un processo che è quello del MOSFET di potenza verticale, lo riconoscete? Questo è il MOSFET di potenza verticale che ha la diffusione. Il canale viene fatto qua, dove vedete la... Aspettate qui, posso anche sfruttare i potenti mezzi e mettere il puntatore. Questo qui viene il canale. Questa è la parte di drift. Quindi questa è la situazione del MOSFET di potenza che abbiamo visto a lezione. con il drain realizzato sull'altra faccia della fetta e poi si utilizza la struttura N- epitassiale come substrato per realizzare sopra degli altri dispositivi. In particolare un MOSFET canale N come questo con cui uno può riuscire a costruire per esempio un traslatore di livello oppure giusto un minimo di logica di pilotaggio. Tenete presente quando dicevo il processo non è per niente ottimizzato intendevo letteralmente in questo caso per dire l'ossido di questo transistore è lo stesso ossido di quello verticale quindi tipicamente spesso non è proprio adatto per fare una logica ad alte prestazioni ma tanto per il tipo di funzione che deve essere fatto non è un problema. Anche i passi di processo sono gli stessi vedete il passo che viene utilizzato per fare qui il body qui viene utilizzato per fare la P-Well i pozzetti N-Più sono gli stessi utilizzati per i contatti e così via. Quindi questo è quello che intendevo dire quando dicevo logica un po' opportunistica fatta per cercare di aumentare le funzionalità del singolo dispositivo. l'isolamento qua dei vari componenti avviene perché chiaramente il drain è all'attenzione più elevata di tutti e quindi la regione N- è a tensione elevata e sono isolati perché tutti i dispositivi sono isolati perché sono separati da una regione N a alto potenziale. Va bene? Quindi ritornando indietro abbiamo poi i punto 3 e punto 4 i veri e propri power management integrated circuits cioè circuiti integrati per la gestione della potenza che rappresentano ormai un settore industriale a sé significativo parzialmente separato sia da quello che chiamiamo analog in generale sia dalla parte digital se date non so se qualcuno di voi legge mai i e-times un sito web che diciamo aggiorna su quello che avviene nel settore industriale dei semiconduttori in generale e in e-times per esempio ci sono tanti canali differenti e ormai power management è diventato un canale a sé perché comunque è un settore dal punto di vista industriale della progettazione che ha una specificità sua e un volume significativo ecco nel campo dei power management integrated circuits tipicamente si distinguono due settori diversi un settore high voltage e un settore high density la differenza è rappresentata bene dalle parole nel settore high voltage si va verso tensioni più elevate quindi tipicamente superiore a un centinaio di volt ma comunque inferiori a un migliaio di volt con densità relativamente basse quindi pochi pochi transistori diciamo l'ordine di qualche centinaio ma non si va facilmente più del centinaio di transistori la parte high density invece è relativa a tensioni più basse al massimo un centinaio di volt per come è la categoria come dire con la segmentazione industriale adesso però con livelli di logica anche densi in modo significativo per cui avete anche su uno stesso circuito integrato la parte di potenza è un micro completo quindi qualche decina di migliaia di transistori tipicamente i processi high density hanno anche memoria non volatile a bordo quindi si possono fare anche elaborazioni sia digitali sia analogiche di una certa complessità i livelli di corrente sono in tutti e due casi diciamo al più tanto per fissare l'ordine di grandezza 100 cioè tipicamente qualche decina di ampere non più su di tanto ok ora voglio dedicare un pochino più di attenzione a questo punto 3-4 perché c'è un processo classico cosiddetto processo BCD che è molto utilizzato per queste particolari applicazioni allora volevo cercare di descriverlo un pochino più in dettaglio e far capire che cos'è che si può ottenere dunque parto dal processo BCD di STMicroelectronics per un motivo un pochino storico nel senso che STMicro è stata la prima società nel settore dei semiconduttori a introdurre un processo BCD ora ce ne sono tantissimi direi almeno 7-8 processi di fonderie differenti però insomma loro sono stati primi hanno avuto un forte successo all'epoca e adesso quest'anno dovrebbe uscire il 10 la decima edizione diciamo del processo BCD allora vediamo di che si tratta si tratta essenzialmente di integrare tre processi di tecnologie differenti sullo stesso chip processi sono BCD B per bipolare C per CMOS D per D MOS Bipolare a che serve? Bipolare essenzialmente serve per alcuni circuiti analogici di particolare precisione tipo i inferiamenti di tensione a band gap che vengono in modo particolarmente naturale con i bipolari tipicamente vengono con una stretta distribuzione piccola variabilità con i bipolari la parte CMOS serve per la progettazione analogica digitale quindi per far la logica e D MOS sta per double diffused MOSFET ed è un MOSFET di potenza quindi in grado di sopportare alte tensioni di breakdown cosa vuol dire alte dipende in dettaglio dal dal tipo di processo ok quindi in realtà si pone come la tecnologia per fare tutto su un singolo chip vuol dire su un singolo DAI una singola tessera di silicio chiaro qual è il vantaggio di fare una cosa del genere guardate innanzitutto un vantaggio grosso in termini di costo come al solito in generale l'integrazione è sempre sinonimo di riduzione di costo quindi qualunque cosa si fa integrata si riesce a ridurre i costi l'affidabilità è tipicamente migliorata perché di fatto non c'è da se io pensate l'alternativa quale potrebbe essere l'alternativa potrebbe essere quella di avere tre DAI differenti un processo CMOS un processo bipolare un processo di potenza in quel punto dovrei collegare con dei bond i DAI chiaramente mi si complica il package mi si peggiora l'affidabilità che chiaramente c'è un tasso di fallimento nel processo di saldatura il fatto che non ci siano i bond migliora la condizione IMI IMI sta per electromagnetic interference si riducono interferenze elettromagnetiche e disturbi causati tipicamente dal fatto che ci sono induttanze mutue non controllate le induttanze mutue non controllate sono legate soprattutto ai fili di collegamento e bond l'altra cosa chiaramente riesco ad avere un'area ridotta quindi anche un dispositivo più piccolo che ha un ingombro minore e questo tipicamente è un vantaggio per tanti contesti in cui si usa un chip bcd e poi chiaramente è anche un fattore significativo di costo l'ingombro è una cosa importante uno quando pensa a cose di potenza pensa spesso a cose per cui l'ingombro non mi preoccupa però pensate che tipicamente se prendete un cellulare tipicamente c'è un grosso chip di potenza che gestisce il caricamento della batteria e la distribuzione dell'alimentazione interna tipicamente quello è un chip fatto con un processo bcd e deve essere piccolo come tutto deve essere piccolo ormai in un smartphone quindi questi sono i vantaggi chiaramente c'è uno svantaggio in tutto questo che volendo fare tre tecnologie diverse con lo stesso processo non viene niente veramente ottimizzato quindi cosa vuol dire vuol dire che per esempio la cosa più critica è la parte di potenza e di conseguenza i bipolari e i CMOS sono un po' sacrificati non avrò processi di dimensioni più piccole per esempio facevo riferimento al processo ST prima che sta per uscire sta per uscire adesso i bcd 10 che saranno 0,11 quando sapete che per la logica digitale siamo a dimensioni molto più piccole è chiaro che come dire fa da freno la parte di potenza e quindi tutto il resto non è così ottimizzato gli ossidi non sono così sottili come si potrebbero avere e così via questo è ragionevole quindi si perde l'ottimizzazione dei processi si guadagna l'integrazione e come stanno tutte le cose i vari processi sullo stesso chip dunque questo è un disegno preso direttamente dalla brochure del processo ST Microelectronics la vedete in pratica quello diciamo si tratta di tre disegni dei tre tipi di dispositivi realizzati con sullo stesso processo quindi chiaramente le regioni dello stesso colore sono regioni uguali ecco quindi cosa abbiamo abbiamo aspettate prendo la penna così faccio un punto direttamente sopra quindi questa qui è la parte NEP che fa da regione di drift ricordo nel nel mosfet di potenza quindi questa è la parte NEP questa qui è una parte N+, è quello che si chiama buried layer lo strato sepolto aspettate cambio colore ok allora vedete questo quindi questa è una zona P questa è la N+, quindi questo NPN-, questo è il bipolare che conoscete questo è il pozzetto P+, del bipolare va bene questo qui che cos'è si chiama sinker questo N+, e consente di collegare il collettore il contatto superficiale di collettore allo strato sepolto va bene il sinker viene utilizzato anche per fare l'isolamento di giunzione quando alle volte si vuole fare d'accordo questa è la parte invece CMOS di segnale di logica quindi questa questa è la P-WELL per fare gli NMOS e questi sono i P-MOS diciamo più o meno un processo standard di solito qui c'è un isolamento che ora nei processi moderni viene fatto con shallow trench STI e poi questo è il D-MOS dunque il D-MOS lo dovreste riconoscere qui sarebbe comodo lo zoom aspettate che qui c'è lo zoom no c'è lo zoom se lo posso se mi riesce ecco allora questo praticamente però con lo zoom non posso fare allora in pratica se lo vedete qui c'è il il dunque c'è una diffusione N e la diffusione P la doppia diffusione è questa quindi N e P questo è il gate questo è il canale e poi il drain attraverso un sink viene collegato allo strato sepolto quindi in pratica in pratica dunque questo è il buried layer questo è il sinker in pratica questo mi consente di avere questo spessore qui per come dire sopportare la tensione di breakdown una tensione di breakdown alta d'accordo quindi il mosfet è qua in superficie e questa qui è la regione di deriva del mosfet chiaramente dall'altra parte avviene la stessa cosa il sinker mi fa sia da contatto sia mi isola completamente il dispositivo perché il drain è alla tensione più alta e quindi mi come dire mi crea una giunzione di separazione corresso il dispositivo quindi questi tre processi questi tre tipi di dispositivi con lo stesso processo si riescono a realizzare in modo abbastanza comodo se ci fate caso si vede abbastanza bene tutto è ottimizzato per il D-MOS questo D-stapper double diffused diffusione doppia perché c'è sia la diffusione P sia la diffusione N per realizzare il canale allora questo è il processo come è andata avanti la storia io volevo giusto farvi vedere un po' la cronologia e come le cose sono cambiate adesso il processo è stato inventato da E-ST a metà anni 80 ed era praticamente una derivazione bipolare è un processo con tensioni massime di pay down 60 volt 4 micron di lunghezza di canale 4 micron di dimensioni minime processo classico anni 80 diciamo niente di particolare 12 livelli di maschera che erano quelli che venivano utilizzati lo stesso numero di maschere che ci vogliono adesso per un processo bipolare la cosa ha avuto successo e tanti sono venuti tanti altri produttori hanno cominciato a fare processi BCD qui su questo disegno è rappresentato anche il numero di processi BCD di Motorola quindi fino a un cert'anno era Motorola poi mi si è intorno a 2000 è diventato Freescale se avete la divisione semiconduttore in Motorola quando è stata come dire portata fuori dall'azienda principale poi si è chiamata Freescale e poi quindi anni 90 questo processo 2 micron e mezzo CMOS con isolamento Locos poi BCD3 è un 1 e 2 con una Twinwell CMOS è il primo che aveva a bordo NWM cioè memorie non volatili flash per memorizzazione di informazioni in modo non volatile appunto con tre livelli di metal di solito c'è un livello di metal solo per la potenza un livello di metal particolarmente spesso che serve per portare la corrente elevata e poi un paio di livelli di metal inferiori per la logica e l'analogico poi andando avanti più o meno i processi vedete sono andati avanti negli anni quello che è utilizzato adesso è uno 018 CMOS con sei livelli di metal e logica non volatile più o meno sono tutti là cioè TSMC è qui adesso ha uno 013 CMOS non volatile TSMC che è quello che ho utilizzato per esempio per per adesso è a bordo sia del del chip di power management dell'iPhone sia quelli della linea Galaxy di Samsung quindi lo fanno con uno 013 più o meno questo è il processo più più moderno adesso ST esce con lo 0 uscirà con lo 011 adesso se ne trovano tanti di BCD ripeto ST è stato il primo free scale a ruota queste qui le riconoscete queste sì le riconoscete TSMC è la fonderia Taiwan una società che ha essenzialmente una linea di attività come fonderia per terzi non producono in proprio fanno solo per terzi è la più grande del mondo come società più o meno quasi tutte le fabless di una certa dimensione usano TSMC UMC è un'altra fonderia Global Fundries è un'altra fonderia essenzialmente Global Fundries è stato lo spin off delle attività di AMD nel settore della tecnologia SMIC è una fonderia cinese forte crescita quindi questi qua sono tutte fonderie lavorano per terzi ST ha cominciato a lavorare per terzi in modo significativo TI è Texas Instruments IFX e Infineon ciascuno di loro ha un processo di tipo BCD va bene ho giusto per farvi vedere la progressione delle ultime concentrando sulla cosa ST e un po' di valori dunque BCD8 ha due versioni differenti c'è la versione high density quella con molta logica che arriva al più a 70 volt vedete BCD8 8S questa è la brochure ST da 8 a 70 volt di tensione di breakdown quindi tensione massima di funzionamento e poi c'è un processo separato SOI cioè silicon on insulator che arriva a 300 volt di tensione di breakdown e questa è la famiglia cosiddetta high voltage per tensioni di breakdown elevate ecco ho sbagliato il numero lo 011 è il BC9 BCD9 non il 10 questo è quello che sta uscendo e va bene non c'è da non c'è da aggiungere molto di più oh giusto una cosa voglio far vedere questa è una una sezione del processo infine non so se si riesce a vedere qualcosa volevo farvi notare soltanto due cose qui l'isolamento vedete questo qui non posso se si riesce a vedere bene magari prendo una penna rossa questo qui è l'isolamento con deep trench si vede che arriva molto molto in profondità per tagliare e separare il dispositivo da quelli adiacenti i dispositivi di logica vengono separati da uno shallow trench vengono isolati da uno shallow trench che sono questi qui molto molto sottili questo è lo strato sepolto il buried layer che si vede abbastanza bene e l'altra cosa che vi voglio far notare è la differenza tra i livelli di metal vedete qui abbiamo quattro livelli di metal in rame per la logica essenzialmente e questo qua è il livello di metal per la potenza un'altra cosa questo in alto questo questo qua questo è il quinto livello di metal chiaramente tra l'altro è un multilayer si vede che non è un materiale uniforme e questo serve per portare la corrente portare le correnti elevate quindi questa parte qua è la n-epi la zona di deriva questo scuro questo è il substrato che c'è sotto quindi dovreste riconoscere le stesse sezioni che abbiamo visto prima va bene allora dunque mi volevo soffermare poi su questo aspetto perché l'abbiamo abbiamo un po' parlato di queste cose in modo di questi numeri diciamo in modo discorsivo trattando i vari dispositivi ma non abbiamo mai visto la cosa tutta insieme allora guardate questo è un grafico che rappresenta l'utilizzo dei vari tipi di dispositivo in funzione del di tre parametri essenzialmente la corrente che è qua qui c'è la corrente la tensione di breakdown lungo l'asse verticale e poi qua c'è la frequenza di switching d'accordo? allora queste cose ce le siamo detti però vale la pena riguardarle insieme vedete per valori di tensioni di breakdown più alte di correnti più elevate si ricorre ai tiristori tiristori quelli anche che abbiamo chiamato SCR sono dispositivi che si spengono col circuito sono lenti hanno bisogno che si genere il plasma e per questo motivo come dire hanno anche resistenze in conduzione molto basse infatti sono lenti e si vede funzionano a frequenze elevate quindi si trattano tensioni corrente alte a frequenze scusate a frequenze basse fino a 100 Hz vuol dire frequenze di reti quindi per esempio i tiristori sono impiegati per la distribuzione della potenza nella rete elettrica nazionale a livelli di corrente un po' più ridotti e di tensioni un po' più bassi ma di poco ma a frequenze di switching più elevate vanno i GTO che sono sempre i tiristori vi ricordate sono i tiristori con lo spegnimento attraverso l'impulso di corrente sul gate perché riescono ad andare a frequenze più elevate essenzialmente perché sono fatti a tanti dispositivi in parallelo quindi hanno una struttura molto più modulare i dispositivi sono singolarmente più piccoli quindi si accendono e si spengono in modo più rapido diciamo che quello che sta succedendo è che nel dominio dei tiristori i GTO stanno pian piano allargandosi a coprire quello che era prima diciamo più o meno esclusivo dei tiristori quindi c'è il verde che mangia il rosa pian piano si allarga a coprire diciamo la parte del rosa poi c'è uno stacco significativo e ormai la situazione è dominata da due tipi di dispositivi gli GBT che hanno mangiato praticamente tutta tutta il come dire tutta la regione in cui si utilizzavano i bipolari diciamo per le applicazioni nuove più o meno gli GBT stanno soppiantando i bipolari ed è quel volume blu là e quel volume tende a crescere nel tempo avessimo visto 5 anni fa sarebbe stato significativamente più piccolo avremmo ancora visto 5 anni fa i bipolari adesso il GBT la tecnologia sta crescendo veramente in modo molto robusto ed è probabilmente quella che si allarga di più quindi abbiamo un'operazione per cui il blu sta andando a coprire la regione del verde il verde copre la regione del rosa contemporaneamente il MOSFET sta aumentando in tensione e in corrente vedete i MOSFET vengono utilizzati per tensione e corrente più piccole ma per frequenze nettamente più elevate quindi sono MOSFET completamente dominanti in tutte le applicazioni di basse tensioni quindi sotto kV sotto 100A praticamente tutto fatto a MOSFET tipicamente con circuiti integrati di potenza e non solo insomma 50A di potenza e non solo però ancora i MOSFET non riescono a recuperare le correnti più elevate ricordate il problema del MOSFET è il fatto che la resistenza in conduzione non è bassa per cui poi le perdite in presenza di alte correnti iniziano a essere significative quindi il MOSFET si preferisce usarlo per correnti non particolarmente elevate per correnti più elevate si vede chiaramente è da preferire l'IGBT quindi diciamo 100A ad oggi è la frontiera del MOSFET va bene anche i MOSFET stanno allargandosi perché in pratica ci sono delle topologie delle strutture di dispositivo di MOSFET cosiddetti MOSFET a supergiunzione che diciamo hanno resistenze RON più basse e quindi tendono a come dire a spingere la ragione di incremento di uso rispetto a quella che è rappresentata qua va bene ecco tenete presente questa è una situazione in forte evoluzione l'unica cosa che è ferma di questo di questo grafico è la parte dei tiristori in fondo tutto il resto invece cambia diciamo con un ritmo biennale in modo visibile due due cose per esempio che cosa è successo sui GBT i GBT se vi ricordate quello che abbiamo detto alla fine del parlando del dispositivo sono stati introdotti fine anni 80 e inizio anni 90 fine anni 80 l'invenzione 90 è quando sono stati introdotti sul mercato diciamo questo e siamo in questa situazione qui si fa riferimento alla linea di prodotti Infineon quindi prodotti tedeschi Infineon sapete la divisione semicodontori di Siemens tradizionale Siemens che poi è stata portata fuori dalla società principale più o meno negli anni fine anni 90 quindi all'epoca qua si chiamava ancora Siemens quando è uscito queste sono le generazioni successive e vedete che cosa è successo c'è stato un aumento notevole di densità di potenza per unità di superficie passando da 30 kilowatt su centimetro quadro a un fattore circa 10 volte più grande ok questo è stato consentito da tutta una serie di cose in particolare in particolare diciamo un aumento del del numero di celle da cui è costituito ogni GBT completo e un aumento della temperatura di giunzione legato al fatto che diciamo si è riusciti a migliorare l'affidabilità dell'IGBT ok adesso l'ultima generazione vedete porta questa sigla SIC che sta per Silicon Carbide perché c'è un cambiamento di materiale che consente un incremento ulteriore di densità di potenza di questo parliamo diciamo il messaggio principale che volevo ecco passarvi con questo lucido è che la densità di potenza trattata dagli GBT è aumentata in modo significativo e con questo è aumentato fortemente l'uso allora e dunque prima di spendere un po' di tempo sui materiali nuovi per dispositivi di potenza volevo cercare di sottolineare un numero di cose che ho già anticipato all'inizio però vale la pena sottolineare adesso l'attenzione ai dispositivi nel caso dell'elettronica di potenza è necessaria perché i dispositivi e i processi relativi sono una gran parte del costo di un sistema di elettronica di potenza quando andate a vedere come è fatto un inverter o un convertore le architetture circuitali sono relativamente semplici sono relativamente simili la differenza come dire nella competizione tra sistemi è determinata in gran parte dai dispositivi e i dispositivi rappresentano una forte parte del costo questo motivo per questo motivo anche si cerca di minimizzare il numero di dispositivi utilizzati e cercare di scalare e utilizzare il dispositivo con le minime caratteristiche per ottenere quello che si vuole dal punto di vista del sistema perché è un costo significativo è un tipo di logica completamente diverso da quello che avete per la progettazione digitale in cui il dispositivo non costa niente e uno tende a utilizzare il più possibile neanche nell'analogico nella progettazione analogica classica è relativamente poco importante il numero di dispositivi che si usa nella parte di potenza uno sta attento perché il dispositivo costa e incide fortemente sul costo tenete presente anche tutto il settore industriale dell'elettronica di potenza è stato cambiato fortemente dall'introduzione di dispositivi nuovi per esempio tutti gli alimentatori switching che diciamo più o meno sono entrati in produzione in commercializzazione negli anni 80 e arrivano chiaramente a essere moltissimo utilizzati adesso sono stati resi possibili dalla disponibilità a circa metà degli anni 80 di mosfet di potenza come mosfet verticali che abbiamo visto insieme cioè quella disponibilità che ha consentito tutto un settore industriale significativo come quello degli alimentatori switching non so se anche in Toscana non so se qualcuno di voi conosce la regione intorno a Rezzo la regione intorno a Rezzo sono tantissime società che sono nate e sono cresciute sono diventati colossi possono essere anche comprati diciamo soprattutto dagli americani Power One ha fatto un acquisto significativo intorno a Rezzo e sono cresciuti costruendo alimentatori switching non i dispositivi i dispositivi comprati ma la parte dell'elettronica relativa e nella retina cioè ci sono 5-6 aziende ormai di dimensioni non piccole sono sopra le centinaia di persone che lavorano e costruiscono sistemi di potenza anche gli GBT hanno consentito l'uso di inverter nel pilotaggio di motori elettrici e hanno ampliato moltissimo la possibilità di utilizzo e il controllo possibile di motori elettrici quindi è un settore industriale che è guidato dalla disponibilità e dalle caratteristiche dei nuovi dispositivi cosa sta per cosa sta per avvenire diciamo qual è la tendenza più recente che c'è adesso è l'utilizzo di materiali nuovi che sono entrati in commercio per i dispositivi di potenza solo recentemente e che presentano le caratteristiche per allargare ancora di più l'uso e la capillarità con cui piccoli sistemi di potenza vengono piazzati prodotti e venduti e i materiali nuovi sono il carburo di silicio e il nitrure di gallio il carburo di silicio non è un materiale ormai totalmente nuovo nell'elettronica di potenza i primi prodotti sono stati messi in commercio circa 5 anni fa 6 anni fa il nitrure di gallio è molto più nuovo per applicazione di potenza tipicamente è un materiale che invece è molto utilizzato nitrure di gallio beh ovviamente la cosa forse più nota per i laser blu quindi per esempio laser di dvd ad alta definizione sono nitrure di gallio da tempo per le telecomunicazioni ad alta frequenza e alta potenza quindi radar nel radar dentro i gallio è abbondantemente utilizzato per applicazione di potenza è un materiale relativamente nuovo allora e adesso vorrei spendere un po' di tempo per parlarvi di questi materiali perché può essere interessante in alcuni contesti utilizzare materiali diversi dal silicio per dispositivi molto simili a quelli che abbiamo visto finora allora ci sono alcuni aspetti che dobbiamo guardare e per capirli ci conviene fare riferimento all'aggiunzione PN e al breakdown dell'aggiunzione PN che abbiamo visto all'inizio in una delle prime lezioni allora riguardiamo un attimo insieme la cosa concentrandoci su quelli che sono i parametri del materiale perché all'inizio delle nostre lezioni abbiamo dato per scontato che il materiale fosse silicio quindi non si potesse avere una costante di elettrica o un campo di breakdown differente vediamo che succede se possiamo avere quel grado di libertà in più allora come dobbiamo ragionare immaginiamo un'aggiunzione PN di un dioido di potenza senza punch through ok? quindi c'è una regione meno drogata una regione più drogata ricordate il campo il potenziale cade praticamente tutto nella regione meno drogata perché la differenza di drogaggio è qualche ordine di grandezza e possiamo assumere nel caso senza punch through che la regione poco drogata sia completamente svuotata quindi di avere nella regione un potenziale parabolico come quello disegnato là quindi immaginate questa qua sia la regione di deriva per esempio n meno di un dio di un dio aggiunzione PN per x uguale a 0 immaginiamo che ci sia la giunzione vera e propria quindi nel caso di svuotamento totale abbiamo chiaramente che il campo è massimo qua alla giunzione e poi pian piano va a finire a 0 alla fine della zona di svuotamento la zona di svuotamento la chiamiamo W di larghezza e E è il campo alla superficie e invece V sarà la caduta complessiva del campo sulla regione di svuotamento e in pratica coincide con la tensione applicata in inversa alla giunzione ok questo è il ragionamento che abbiamo fatto lo spendo due parole in più perché ho passato qualche settimana magari va ripreso allora che cos'è che si può dire facilmente ma chiaramente il campo applicando il terreno di Gauss sarà Q per ND dove ND è il drogaggio di questa regione diviso Epsilon Epsilon 0 Epsilon R quindi l'Epsilon relativo è per l'Epsilon 0 per W d'accordo quindi questo è il campo alla superficie la caduta di tensione immaginando chiaramente un andamento parabolico sappiamo già come va a finire quindi non devo ricavarvi diciamo l'espressione potenziale di una giunzione Pn verrà un mezzo Q per ND diviso Epsilon per W al quadrato va bene questo è un risultato noto fino al corso dei dispositivi chiaramente questa roba qua è proprio il campo alla superficie e quindi otteniamo questo risultato che avevamo già ottenuto a suo tempo cioè che la caduta di tensione è uguale al campo alla superficie per lo spessore della zona di svuotamento diviso 2 questo è il risultato che avevamo ottenuto nel caso di non punch through quindi di campo nullo alla fine nella regione di deriva quindi questo lo dobbiamo tenere a mente l'altra cosa che dobbiamo scrivere qua perché poi la utilizzeremo è invece la riga che ho scritto successivamente che in pratica deriva dalla precedente vedete se prendo l'espressione precedente moltiplico per 2 2V quindi levo il 2 da qui e moltiplico per Q per ND diviso Epsilon quindi scrivo questa cosa qua mi viene a destra dell'uguale il campo superficiale al quadrato va bene quindi queste due mi conviene utilizzarle allora ho due relazioni che legano la prima il campo superficiale alla caduta e tensione attraverso lo spessore della zona di svuotamento e il secondo lega il campo alla caduta e tensione attraverso il drogaggio mi servono tutte e due perché in ognuna delle due c'è un parametro che nell'altra manca allora che cosa posso fare adesso io mi metto al limite del breakdown e dico va bene se al posto di questo campo ci scrivo il campo di breakdown ottengo al posto della V la tensione di breakdown quindi scrivo le stesse equazioni al limite del breakdown quindi ottengo quindi VBD uguale a W per EBD diviso 2 dove BD sta per breakdown e la stessa cosa sotto ed è quello che ho fatto qua vedete 2VBD uguale a W per EBD e poi anche qua ho semplicemente aggiunto perdice breakdown ai due termini va bene perché faccio questa cosa perché EBD è una proprietà del materiale non lo tocco VBD invece è una specifica del sistema mi si chiede che tensione di breakdown voglio d'accordo e queste due equazioni mi consentono di determinare lo spessore della regione di svuotamento se le estraggo dalla prima e dalla seconda il livello del drogaggio ok passaggio molto molto semplice perché queste due cose mi servono perché intanto adesso che cosa ho fatto ho fissato dei requisiti per il breakdown e ho trovato due specifiche fisiche del dispositivo una geometrica e una di drogaggio va bene adesso mi metto una situazione di conduzione quindi on e vado a vedere quant'è la resistenza che quella regione di deriva fornisce alla conduzione va bene l'unica cosa che faccio adesso ed è una parte che prima non avevamo guardato insieme è che esamino una situazione in cui non c'è modulazione della conduttività d'accordo che per esempio se si tratta di un FET sapete che non c'è modulazione della conduttività non FET quindi cosa vuol dire questo la concentrazione di portatori in conduzione sarà pari al drogaggio della zona ok quindi avrò che la concentrazione di portatori N quando conduce quella regione che prima era svuotata sarà pari esattamente ND il fatto di aver usato un drogaggio piccolo adesso lo pago in termini di conduttività della regione d'accordo allora scriviamo questa equazione la resistenza della regione che prima era svuotata quindi della regione di deriva sono qua la resistenza che cos'è seconda legge di Ohm la lunghezza della regione che è indicata come larghezza ma insomma è una lunghezza in questo caso diviso la sezione per la conducibilità che è scusate per la resistività che è 1 su Q mu n dove mu è la mobilità n è il numero di portatori e Q è la carica dell'elettrone d'accordo? quindi questa è legge di Ohm niente di più seconda legge di Ohm a questo punto faccio quel passaggio logico che vi dicevo prima questa n non è nient'altro che è l'nd perché sto considerando dispositivi in cui non c'è modulazione della conduttività ok ho fatto questo facciamo l'altro passaggio utilizzando le informazioni che sappiamo quindi vedete alla porto di qua tanto diciamo un parametro geometrico che non mi serve lo moltiplico al numeratore poi al posto di W prendo l'espressione che avevo ricavato prima 2VBD diviso BD va bene poi il resto lo copio così com'è al posto di QND qua al denominatore ci copio l'inverso di questo che è questo qua d'accordo? faccio il tutto ugualio vedete cosa viene fuori questa è la cosa importante viene fuori un 4 poi c'è una tensione di breakdown al quadrato un campo di breakdown al cubo al denominatore la mobilità e l'epsilon del materiale dov'è che entrano quindi le proprietà del materiale adesso vedete sono tutte queste tre cose al denominatore perché la mobilità dei portatori degli elettroni questi che trattano la regione N quindi sono elettroni la costante di elettrica e il campo di breakdown sono proprietà del materiale allora cosa vuol dire questo vuol dire che immaginate di dover realizzare un dispositivo ok la tensione di breakdown è una specifica cioè voglio un dispositivo che abbia 100 volt di tensione di breakdown quindi quella è fissata ok è chiaro che se quelle tre cose quegli altri tre parametri al denominatore sono più alti nel materiale che state considerando avete a parità di tensione di breakdown una resistenza in conduzione più elevata che vuol dire minori perdite in conduzione minore potenza buttata via non solo minore potenza buttata via ma minore temperatura di funzionamento minore vincoli su package minore ingombro perché se il package è più semplice l'ingombro è anche inferiore quindi c'è un grosso vantaggio nel cercare di utilizzare materiali che abbiano quei parametri più piccoli ma si capisce qual è il parametro che conta di più di quelli e chiaramente il campo di breakdown perché è presente lì con un potenza alla terza e quindi un miglioramento del campo di breakdown viene come dire particolarmente valorizzato dalla potenza d'accordo? allora per questo motivo nel negli anni è stato definito un fattore di merito dei materiali per l'elettronica di potenza che è quel denominatore normalizzato rispetto allo stesso valore di quel denominatore per il silicio quindi diventa un fattore di merito rispetto al silicio questo fattore di merito è stato in realtà proposto anni 90 da Baliga che è l'inventore dell'IGBT e ripeto è normalizzato rispetto a quello del silicio quindi noi poi alla fine dopo la normalizzazione prendiamo uno il valore di quel fattore di merito per il silicio allora vediamo gli altri materiali diciamo che consideriamo alternativi al silicio e che potrebbero avere un vantaggio uno è l'arsenio di gallio che un vantaggio potrebbe averlo sapete l'arsenio di gallio c'è quella battuta che dice che è sempre stato il materiale futuro e sempre lo sarà no? perché è un materiale che sulla carta ha tantissimi vantaggi rispetto al silicio ma da tanto tempo e però poi in pratica non tranne che per applicazioni di elevata frequenza non è particolarmente utilizzato molto utilizzato per applicazioni elettroniche chiaramente perché ha proprietà ottiche come dire irraggiungibili dal silicio però fuori da quel dominio non è riuscito a andare molto avanti e poi ci sono gli altri due materiali che vi citavo prima il carburio di silicio e il nitrulo di gallio allora vedete qui ci sono le tre quelli tre parametri che stiamo considerando nel fattore di merito il campo elettrico di breakdown tipicamente si tradizionalmente si usa megavolt su centimetro perché è un numero che viene in fuori un numero vicino a uno con quell'unità di misura e vedete è più o meno simile per il silicio e per l'arsenio di gallio ma va su tantissimo per il nitrulo di gallio e per il carburio di silicio guardate la differenza che c'è tra nitrulo di gallio e silicio c'è un fattore 10 sul campo al cubo fa 1000 ok e quello chiaramente è particolarmente attraente la mobilità più o meno è diciamo non è il gran vantaggio di questi materiali sarebbe un vantaggio molto forte per l'arsenio di gallio questa è mobilità bulk non all'interfaccia mobilità nell'interno del materiale ormai il silicio nei processi più bassi in superficie ha mobilità sotto 100 è molto diversa la mobilità interna del materiale dalla mobilità in un mosso in superficie comunque in questo caso lì dobbiamo guardare perché stiamo guardando la mobilità nella regione di deriva la costante di elettrica più o meno è paragonabile e quindi alla fine si è andata a vedere questo fattore di merito dei materiali normalizzata rispetto a quella del silicio viene fuori che il carburo di silicio e l'intrullo di gallio hanno un fattore di merito molto elevato d'accordo e l'intrullo di gallio in particolare arriva a 500 cosa vuol dire? vuol dire quindi a parità di tutto di tensione breakdown di potenza trattata voi avete dei switch dei interruttori controllati che consumano 500 volte di meno ok? è una cosa enorme allora è veramente 500 volte di meno non è 500 volte di meno su tutto è 500 volte di meno sulla componente della potenza che viene dissipata nella regione di deriva non su tutto il resto quindi il guadagno complessivo non sarà così alto ma quella è una gran parte della potenza per le applicazioni di alta tensione è la parte principale abbondantemente la parte principale quindi comunque rappresenta un risparmio fortissimo che si può ottenere da quel punto di vista e è il motivo per cui ci è stato in questi ultimi anni una corsa a realizzare materiali prima in carburo di silicio perché è più facile e poi ultimamente nitroirigallio il carburo di silicio è facile perché c'è il silicio e carboni ovviamente ma soprattutto c'è il silicio ci si può fare l'ossido di silicio sopra il carburo di silicio si integra facilmente con la tecnologia del silicio si si è molto facile integrare non cambia tantissimo il processo il nitroirigallio è tutta un'altra cosa ok per cui è arrivato più tardi va bene c'è un altro vantaggio che questi materiali hanno che in realtà non è incorrelato a questo e riguarda invece le proprietà termiche allora vi faccio vedere quest'altra tabella dove ci sono gli stessi materiali ma evidenzio delle proprietà differenti date un'occhiata ci sono le proprietà legate all'energia diciamo alla temperatura ma quelle che ci interessano di più sono le prime tre i band gap a temperatura ambiente è importante band gap dipende dalla temperatura abbastanza in modo abbastanza robusto in alcuni materiali quindi bisogna specificare a temperatura ambiente dunque il carburo di silicio e il nitroirigallio in particolare in modo minore l'arsenio di regaglio hanno un band gap più elevato band gap più elevato è vantaggioso per motivi termici allora innanzitutto prima di tutto mi preme sottolineare una cosa no è chiaro che il band gap elevato non è a coincidenza rispetto al campo di breakdown elevato ok non è che uno può dire che coincidenza questi materiali hanno sia band gap più elevato sia il campo di breakdown più elevato è chiaro che il fatto che il campo di breakdown sia più elevato dipende in parte dal fatto che band gap è più elevato perché se il band gap è più elevato è più difficile fare ionizzazione da impatto perché bisogna dare più energie apportatori per ionizzarli e quindi il campo alla quale si riesce ad avere una moltiplicazione avvalanga è più elevato quindi le due cose sono correlate va bene però l'aspetto che qui voglio sottolineare è che il band gap più elevato è vantaggioso per le proprietà termiche del materiale perché se ricordate quando il band gap è più elevato la concentrazione di portatori intrinseci è più piccola non so se ricordate ma la concentrazione di portatori intrinseci n quadro era aspettate la scrivo qua voi avete una relazione di questo tipo no? n n i al quadrato è all'incirca proporzionale a e alla meno e g su kt quindi se il gap è più grande a parità di temperatura n i è più piccolo quindi che vuol dire a parità di temperatura le correnti di perdita sono minori la corrente di saturazione è proporzionale a n quadro la is le correnti di saturazione inversa di una giunzione è proporzionale a n quadro e quindi se il gap è più grande è più piccola quindi a parità di temperatura avete una corrente di leakage più piccola se il vincolo alla temperatura massima di funzionamento è dato dalla corrente di leakage come il caso allora vuol dire che all'aumentare del gap avete un aumento della massima temperatura di funzionamento ok qual è il vantaggio di avere una temperatura di funzionamento più elevata il vantaggio di avere la temperatura di funzionamento più elevata è che è più facile raffreddare ok perché se ho un dispositivo che consuma un watt e lo voglio e posso accettare una differenza termica di 100 gradi rispetto all'ambiente invece che 50 mi basta un sistema di raffreddamento che porti via la metà del calore ok per cui il raffreddamento è più semplice se posso tenere più alta la temperatura di funzionamento se il raffreddamento è più semplice di solito ha un effetto diretto sull'ingombro del sistema di raffreddamento posso fare un case più semplice e tutto il resto tanto tiene bene la temperatura e per questo vedete qua temperature e funzionamento sono particolarmente più alte per il carbone silice e per il nitro e il gallio ripeto è un vantaggio poter avere temperature e funzionamento più alte perché è più semplice il raffreddamento quindi posso avere dei package più semplici è una cosa più compatta il problema è che le cose più compatte tipicamente dissipano peggio il calore e quindi si riscaldano troppo se la cosa non è un problema va bene ok d'accordo quindi i concetti li abbiamo detti la cifra di merito appunto per guardare la dissipazione in conduzione e le proprietà termiche ok dunque per fare un volevo far vedere quali sono i tipi di dispositivi che si ottengono con SIC con carburio di silicio e con nitrole di gallio tra parentesi voi sapete le formule chimiche non si leggono come le dico io ok non si dice SIC si dice SIC ok e non si dice GAN ma si dice GAN N ok tanto dicono tutti SIC GAN quindi vabbè poi nell'uso ormai questa cosa è stata spianata perché chi lavora con 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 insomma materiali spesso taglia taglia corte quindi ALGAS che chiaramente la professoressa chimica delle superiori poteva scansalizzarsi per una cosa del genere ma poi nella pratica in tutto il mondo si dice così lavorando allora prima di farvi vedere come si fanno come sono fatti questi dispositivi in carburio di silicio e nitro di gallio devo fare una piccola parentesi per farvi vedere come è fatto un MOSFET a supergiunzione perché nella pratica questi sono i MOSFET più competitivi adesso con quei materiali con quei dispositivi quindi se si fa un confronto ha senso farlo più direttamente con questi guardate questa è una cosa abbastanza semplice da vedere e tutto sommato interessante perché perché in pratica abbiamo visto che quei materiali hanno di particolarmente vantaggioso il fatto che la resistenza in conduzione a parità di tensione di breakdown è più bassa d'accordo? c'è però un modo per riuscire a ottenere quella resistenza più bassa anche utilizzando il silicio ed è attraverso questa supergiunzione che è una cosa piuttosto semplice guardiamo un po' sinistra destra prima la cosa sinistra la figura di sinistra è un MOSFET verticale classico vedete questo se io vado a disegnare il percorso della corrente il percorso è questo questo qui è il source questo è il canale questo è la regione di deriva e questo sotto è il drain va bene questa è la regione di deriva dove ho la grossa caduta di tensione va bene il canale è questo qua superficiale la parte P è quella è quella rosa no e il blu è l'n più del contatto di source d'accordo quindi qui ho tante scelle in parallelo perché poi questi source sono tutti in parallelo il drain è a comune in basso e va bene i gate chiaramente sono tutti in parallelo questa è la situazione normale nella situazione normale qui c'è un po' di drogaggio non posso fare come faccio nelle giunzioni piene di potenza un drogaggio praticamente nullo nella regione di deriva perché nel dio di aggiunzione faccio un drogaggio anche 10 alla 14 10 alla 15 mi va bene perché tanto poi in conduzione c'è la modulazione la conduttività e si crea plasma all'interno della regione di deriva in un mosfet no quindi se in un mosfet non drogo per niente la regione di deriva poi in conduzione la resistenza serie è eccessiva quindi un pochino va drogata per cui io che cosa vedo qua nella regione di svuotamento vedo una questo grafico rosa qui è il campo quindi c'è il campo massimo all'aggiunzione poi vedo un calo del campo fino al contatto di drain il campo qui cala perché il drogaggio non è trascurabile d'accordo allora nel caso il mosfet supergiunzione vedete praticamente la struttura è identica questa è una cosa molto astuta diciamo come stratagemma la caratteristica la cosa principale è questo pilastro P il P pillar vedete questo pilastro che va verso il basso che arriva quasi al contatto di substrato questo pilastro ha questo effetto vedete chiaramente è drogato P quindi ho una carica fissa negativa e mi causa un effetto di charge sharing con la carica fissa positiva che c'è nella regione di drift per cui che cosa succede che c'è un campo che va in questa direzione e la carica fissa positiva quindi è impegnata a schermare il campo che c'è dalla parte P e non scherma scherma molto di meno il campo che viene in modo verticale quindi a parità di drogaggio per esempio io avrei che il campo decresce molto avere un campo che decrescerebbe molto più lentamente che nel caso del mosfet normale d'accordo ripeto perché dovete pensare che non è più monodimensionale il ragionamento voi avete cioè in effetto i charge sharing la carica che è dentro la regione di deriva è impegnata a quella carica arrivano linee di forza che vengono dalla regione P più e quindi non scherma il campo che viene dalla superficie l'effetto netto di questo è che per ottenere lo stesso profilo che ottengo nel caso il mosfet planare posso mettere una regione di deriva drogata circa un fattore 10 di più ok quindi recapitolando questi pilastri P più causano un accoppiamento capacitivo con la parte nella regione di deriva che in pratica mi consente di aumentare il drogaggio della regione di deriva di un fattore 10 all'incirca a parità di profilo del campo andando dalla superficie fino al contatto di drain qual è il vantaggio il vantaggio che aumentando il drogaggio di un fattore 10 quando il mosfet passa in conduzione la resistenza della regione di deriva si riduce di un fattore 10 ok e quindi ho una riduzione significativa della resistenza di conduzione del mosfet più o meno per esempio per questo esempio da cui è tratto il disegno che è un datasheet di un mosfet supergiunzione Fairchild si ha una riduzione di un fattore 5 dell'RON l'RON chiaramente non dipende soltanto dalla resistenza della regione di deriva ci sono altri pezzi che non vengono influenzati quindi riducendo di 10 la resistenza della regione di deriva riduco di un fattore 5 la resistenza totale d'accordo perché è importante menzionare questi mosfet a supergiunzione perché sono la categoria di mosfet più recenti dove c'è un'evoluzione maggiore negli ultimi anni e che effettivamente ha senso utilizzare come confronto per i nuovi materiali mosfet a supergiunzione sono stati introdotti da Siemens nel 99 poi ancora infine ST ha introdotto una linea di supergiunzione nel 2000 e la prima generazione adesso siamo arrivati alla terza però ecco è veramente un dispositivo di evoluzione molto recente è un mosfet niente più ma questo piccolo accorgimento migliora le prestazioni in modo significativo questi sono quelli che anche vanno sotto il nome se cercate la categoria in final si chiama cool mos hanno tutti i nomi commerciali per sottolineare il basso consumo di potenza ok d'accordo e in carburio di silicio come cosa si fa tipicamente ormai in commercio si trovano sia FET sia Diodi quindi Diodi in carburio di silicio tipicamente Diodi 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 Schottky conviene usare in carburio di silicio Diodi Schottky perché è sui Diodi Schottky che si ha il vantaggio maggiore perché Diodi Schottky non hanno sono unipolari quindi non hanno PN quindi non hanno l'effetto di modulazione della conduttività altrimenti il vantaggio è molto minore e poi altri FET in particolare sia FET aggiunzione sia MOSFET questo per esempio è una figura di un FET aggiunzione vedete questo è un GFET classico di potenza che è fatto con un GFET normale ormai GFET viene utilizzato essenzialmente per applicazione di potenza come è fatto in pratica questo è il contatto N questo è il contatto di drain dal gate sopra applicando attenzione negativa si svuota la regione di deriva che è la regione N- quindi di nuovo ripeto il vantaggio sta nel fatto che è un'aggiunzione PN in inversa non c'è modulazione della conduttività quindi tutti i vantaggi del materiale si riescono a vedere in modo evidente su questo non c'è molto da dire in pratica si riescono a ottenere dispositivi molto simili a quelli che si ottengono in silicio invece è molto diversa la situazione per il nitrure di gallio allora per il nitrure di gallio la situazione è un po' diversa merita che ci perdiamo un pochino di tempo perché il dispositivo ha una forma molto differente e guardate com'è fatto in pratica nelle versioni moderne sono fatte così in commercio sono fatte così in pratica si usa un substrato di silicio quindi questo è silicio ed è da un wafer di silicio che si parte sopra un wafer di silicio si cresce uno strato di nitrure di gallio e questa è la parte complicata perché nitrure di gallio e il silicio non sono con reticolo uguale quindi c'è tutto un processo particolare per riuscire a crescere degli stati di transizione in cui si cerca di far depositare tutti i difetti dovuti al mismatch quindi al disadattamento dei reticoli sperando di confinare tutti i difetti le dislocazioni i difetti vari qua dentro gli stati di transizione e poi per arrivare a uno strato perfetto e cristallino di nitrure di gallio d'accordo? il fatto di fare il nitrure di gallio sul silicio è in qualche modo indispensabile perché non si riescono a crescere dei lingotti di buona qualità e a un prezzo ragionevole di nitrure di gallio quindi bisogna passare dal silicio questa tecnologicamente è stata la cosa più complicata riuscire a fare in modo che la qualità del nitrure di gallio cresciuto qua sopra fosse sufficientemente buona ancora questa è la sfida principale una volta fatto questo non c'è bisogno di drogare nitrure di gallio perché non si fa altro che crescere uno strato sopra il nitrure di gallio di nitrure di gallio e alluminio questo materiale che si chiama algan quindi alluminum gallium nitride allora l'algan ha una caratteristica interessante che è un materiale piezoelettrico quindi quando si deposita il nitrure di gallio alluminio sopra il nitrure di gallio a causa dello stress di deposizione del fatto che viene stirato il reticolo per essere appoggiato sul nitrure di gallio si crea qui un campo elettrico con delle cariche positive indotte sul lato inferiore e delle cariche negative indotte sul lato superiore della superficie queste cariche negative attirano qua un gas bidimensionale di elettroni scusate queste cariche positive fanno da droganti attirano uno strato bidimensionale di elettroni quindi si forma uno strato di carica un canale questo 2Deg sta per 2D electron gas un gas elettronico bidimensionale 2D electron gas è quello che si crea anche nell'interfaccia ossido semiconduttore in un MOS electron questo è una città elettron gas quindi questo è il canale che si forma e poi sopra viene fatto l'ossido e questo qui è l'ossido di elettrico di gate e poi il contatto di gate e poi a lato il contatto di source è il contatto di drain qui tipicamente poi viene si fa in modo da contattare direttamente il gas bidimensionale da una parte e anche dall'altra e questo rosso è il canale e poi alla fine è un fetto normale questo è un dispositivo più complicato degli altri abbastanza diverso è tutto planare però tenete presente non ci sono giunzioni sono solo portatori di un tipo non c'è il drogaggio tipicamente si riesce ad ottenere una mobilità abbastanza buona nel gas bidimensionale si capisce perché ci si è arrivati tardi a farlo perché dal punto di vista tecnologico è particolarmente complicato la cosa diciamo il singolo aspetto più complicato è il fatto che è realizzare il nitrure di gallio praticamente ideale senza difetti chiaramente i difetti alterano molto la mobilità riducono il campo di breakdown perché attraverso i difetti si può facilitare il breakdown e quindi poi alla fine i difetti fanno perdere vantaggi per cui finché la tecnologia non è sufficientemente buona il vantaggio del nitrure di gallio non si vede l'altra cosa che dovreste notare è che il dispositivo è laterale il drain vedete è sul piano non è dall'altra parte e la regione di deriva la regione che tiene il campo è questo la regione di deriva è questa qua dal drain al gate infatti vedete è asimmetrico il dispositivo è molto distante il drain rispetto al gate in funzione di quanto deve essere la tensione di breakdown e quella distanza serve a fare in modo che chiaramente si possa reggere la tensione di breakdown elevata quindi quella distanza per il campo di breakdown mi dà la tensione di breakdown all'incirca quindi c'è anche una complicazione nel fatto che i campi possono uscire dal dispositivo e quindi bisogna cercare di confinarli è molto meno semplice il dispositivo rispetto a un dispositivo solo verticale in cui tutto avviene in una dimensione qui la cosa è significativamente più complicata c'è un altro elemento che si aggiunge e che il dispositivo come vedete è normalmente aperto normalmente on in conduzione perché il gas bidimensionale il canale c'è già è già formato e quindi bisogna applicare una tensione negativa sul gate per toglierlo per spegnerlo quindi se vi ricordate assomiglia un po' ai MOSFET a svuotamento che potete aver visto al corso di dispositivi ovviamente il MOSFET a svuotamento non lo usa più nessuno questo è un fastidio perché spegnerlo con tensioni negative è effettivamente un fastidio dal punto di vista circuitale quindi è un tipo di dispositivi che ha introduce parecchie complicazioni l'unico motivo per cui si utilizza è quel numero quindi spaventosamente buono dal punto di vista del fattore di merito quella possibilità di ridurre fortemente la dissipazione in una situazione in cui l'attenzione a consumo e allo spreco di potenza è elevato è chiaro che diventa un tipo di dispositivo su cui c'è attenzione sì praticamente è un fetto normale soltanto la tensione di soglia è negativa sì 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 chiaramente qui qui c'è questa carica positiva fissa che attira gli elettroni quindi mi introduce una tensione di soglia negativa in pratica poi a seconda della tensione che applico sul gate lo spengo come MOSFET quindi dal punto di vista del funzionamento è esattamente uguale a MOSFET con una tensione di soglia negativa tutto qua però MOSFET ha canale N diciamo normale si forma si forma dunque è il dunque voi avete visto cos'è un materiale di piezo elettrico no? vagamento vagamento o la prima volta avete ascoltato questa parola di piezo elettrico ok allora cos'è un materiale di piezo elettrico in pratica è un materiale che in pratica ha una proprietà per cui trasforma l'energia potenziale accumulata in energia elettrica accumulata se deformate il materiale di piezo elettrico tipicamente modificate la situazione del cristallo in modo tale che introducete una differenza potenziale tra due facce quindi se comprimete il materiale per esempio tra la faccia superiore e la faccia inferiore c'è una differenza potenziale queste differenze potenziali com'è che si che si introduce in pratica si inducono delle cariche positive sulla superficie e negative sull'altra d'accordo? la la quindi questo è un materiale di piezo elettrico in generale per cosa si usa un materiale di piezo elettrico? storicamente l'uso principale era per realizzare dei microfoni no? perché chiaramente modificando con l'aria la pressione su una membrana di un materiale di piezo elettrico tra le due facce si rivela una differenza di potenziale analoga all'onda di pressione quindi che ha la stessa forma dell'onda di pressione quindi che ha la stessa forma del suono in quel modo classico di utilizzo di materiale di piezo elettrico ci sono tante applicazioni differenti attualmente in questo caso particolare che cosa succede? che nelle condizioni di pressione microscopicamente a che cosa è dovuto? è dovuto al fatto che il materiale di piezo elettrico di solito è un cristallo polare come l'algan per esempio che ha elementi del terzo gruppo e elementi del quinto gruppo se modifico la distanza tra gli atomi nel cristallo si induce un dipolo internamente che è proprio quello che vedo allora alle condizioni di crescita dello strato di algan in questo materiale il cristallo si forma in modo deformato rispetto alla situazione naturale e per questo si inducono queste cariche e queste sono lì sono ferme non si spostano più una volta che si fredda diciamo il cristallo raggiunge una situazione di riposo queste cariche rimangono durante il processo di crescita e di raffreddamento cioè non è soltanto la crescita è anche c'è la crescita l'anneling successivo il raffreddamento alla fine quando si ferma il tutto quelle cariche rimangono lì e non si muovono più quindi è esattamente equivalente a un drogaggio nel materiale ed è più comodo il drogaggio perché il drogante di solito è un'impurezza che introduco là dentro che ha un effetto negativo sulla mobilità perché causa urti invece in questo caso mi trovo che tra l'altro il trasporto avviene nel nitroligaglio e invece la carica viene indotta dentro il nitroligaglio alluminio quindi non c'è neanche il contatto diretto ok quindi è causata dalla pieza elettricità del materiale ok allora no questa è una cosa giusto ve lo faccio vedere a livello di curiosità chiaramente è soltanto una curiosità questo è un risultato di Infineon dell'anno scorso un confronto tra loro linee di sviluppo interno MOSFET JFET in silicon carbide quindi carburo di silicio e HEMT in GAN questi transistori qui si chiamano HEMT questo non ve l'ho detto HEMT sta per High Electron Mobility Transistor quindi il transistore ad alta mobilità degli elettroni l'alta mobilità c'è perché non c'è drogaggio in pratica proprio per questo meccanismo di drogaggio efficace attraverso la carica indotta non ho impurezze e per questo riesco ad avere un'alta mobilità non solo poi c'è un effetto anche aggiuntivo che l'interfaccia tra nitrole galle e nitrole galle alluminio è praticamente perfetta perché il materiale ha la stessa diciamo ha un reticolo cristallino compatibile anche se non è esattamente lo stesso mentre invece immaginate il silicio amorfo sopra il silicio quindi la superficie viene nettamente più 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 ideale in questo caso le due cose si traducono in una mobilità elevata ecco MIS invece sta per Metal Insulator Semiconductor diciamo non è scritto MOS perché non è proprio un ossido l'isolante che si usa allora questa è giusto una curiosità un MOSFET supergiunzione questo tratteggio qui è il pilastro qui un JFET e un HEMT in nitrole di gallio è quello che loro vedono dal 2000 al 2013 questa è la resistenza in conduzione vedete la linea in alto sono i cool MOS è la linea prodotto dei MOSFET a supergiunzione di Infineon che arriva fino a 1 in ohm per millimetro quadro e questi sono i risultati che loro hanno con JFET sì con carbide e con l'MT in nitrole di gallio quindi vedete siamo all'incirca diciamo fino a un ordine di grandezza sotto quindi questo è per in qualche modo far vedere il tipo di attenzione che c'è per questa classe di dispositivi dal punto di vista dell'utilizzo questo di nuovo è un il piano di sviluppo di Infineon per i tipi di applicazione è una tabella che assomiglia a quella precedente anche questo è un po' a titolo più informativo che nessuno ve lo viene a chiedere all'esame ovviamente la tabella però guardate qua è la stessa tabella di prima T-Ristori IGBT MOSFET all'aumentare della frequenza e al ridursi della potenza delle applicazioni quindi questa è la stessa tabella quindi questa è la stessa tabella di prima e qui vi fa vedere dove si inseriscono i dispositivi in nitroligallio e in silicon carbide vedete a livello di frequenze vanno per frequenze più elevate a livello di potenza il silicon carbide supera la parte dei MOSFET in nitroligallio ancora non ancora il motivo per cui si riesce ad andare verso frequenze più elevate in gran parte è dovuto al fatto che in pratica avendo il campo di breakdown più alto a parità di tensione di breakdown si riescono a fare dispositivi più piccoli e quindi si riescono a far funzionare a frequenze di commutazione maggiori per cui si sposta la frequenza verso valori diciamo nettamente più elevati ok va bene quindi giusto ma questo non non ecco giusto questa qui voglio farvi solo riflettere su questo aspetto il motivo per cui ci sono anche degli svantaggi questi materiali sono legati al motivo per cui non si sono ancora come dire affermati non sono diffusi così come il silicio in altri contesti e il motivo principale io mi concentrerei sul carburo di silicio e sul nitroirigaglio il carburo di silicio il carburo di silicio la cosa comune è il fatto che ancora la difettosità non è a un livello di qualità sufficiente per trarre tutti i benefici che la figura di merito consentirebbe di avere quindi quel beneficio del nitroirigaglio di un fattore del 500 in realtà nei dispositivi reali non si riesce a cogliere totalmente perché il campo di rottura nel dispositivo planare viene più basso del materiale bulk in quanto nel dispositivo entrano le difette delle impurezze in più che abbassano il campo di rottura lo stesso discorso vale per il carburo di silicio quindi c'è questo aspetto dell'affidabilità e delle impurezze che in qualche modo ha finora rallentato la cosa però diciamo ecco veramente è una è una questione di dimensione del mercato ormai perché i dispositivi sono nei cataloghi di tutte le maggiori industrie in questo momento va bene questo per completare la rassegna sui dispositivi e direi che ci fermiamo facciamo un po' di pausa e poi cominciamo un argomento nuovo